Buona opportunità per la Roma, ecco Pizarro. Sono praticamente tutti in area. Parte Pizarro, carica il destro, la palla che è finta, tira gol! Go! 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 Di Pizarro il gol del vantaggio da Roma anche per lui, anche per lui è il primo gol in questa stagione, gol di Pizarro esattamente al 34esimo minuto c'è stata sicuramente una deviazione in area di rigore sul tiro di Pizarro ma il gol va comunque attribuito a lui, il gran tiro da parte di Pizarro c'è stato un tocco con il tacco da parte di un giocatore del Napoli, forse proprio in nuovo entrato, no no è stato Garic che ha toccato il pallone con il tacco Grazie